Ancora un KO per la Turris che cade a Liguri anche di fronte al Pescara. Gli abruzzesi in lotta per la vittoria del campionato vengono sorpresi dai corallini in avvio di primo tempo da Leonetti che si invola verso la porta avversaria e mette in rete ma l'assistente dell'arbitro annulla per un fuorigioco che parrebbe non esserci con le successive proteste degli uomini di Di Michele. Al primo a fondo Pescara in vantaggio, angolo di Aloy e Brosco di testa supera Perina. Poco dopo è ancora Aloy a mettere in mezzo per Vergani che manda a lato. Al 35esimo è Audi a mancare l'occasione del pareggio. Nel secondo tempo Mora trova il raddoppio per i biancoazzurri direttamente su punizione. Dopo alcune occasioni sciupate si arriva all'88esimo con l'autogol di Cuppone che riapre la partita ma solo per pochi minuti perché al 92esimo Ghiabois da fuori aria trafinge ancora Perina per l'1-3. L'ultima emozione al 94esimo con Ercolano che dal limite trova il gol del 2-3 ma non c'è più tempo e la partita finisce con la vittoria del Pescara che continua la sua corsa tra le zone alte di classifica mentre la Turis è sempre più vicina alla zona play-out. Prossimo impegno a Messina domenica prossima alle 14.30.